Ma cos'è il Policlinico Diffuso? Un'idea uscita dal cilindro dell'assessore Ruggero Razza dopo che il sindaco Roberto Gambino aveva aperto una maglia sul protocollo d'intesa tra core e regione per l'alta formazione professionale in campo sanitario. Quel protocollo pare sia invece la base per l'istituzione del nuovo Policlinico Enna. E' il modo così il Policlinico Diffuso per voler accontentare tutti e in fondo nessuno o una pervenza di novità per poi tornare a voler, secondo i più informati, favorire Enna? Un articolo uscito su Butanissima Sicilia, sito online molto informato, racconta di come il sostegno per la sanità arrivato Enna sia per motivi politici. La moglie dell'assessore Razza è una deputata ennese, anzi di Troina. E l'Oasi viene definita dall'articolo una succursale del movimento del governatore. Cattivi pensieri o verità? Intanto il Policlinico Diffuso nell'organizzazione dei sistemi sanitari non esiste come inquadramento. Sarebbe una novità. La certezza è una, o almeno sembra, che per fare un Policlinico ci vuole un hub di secondo livello e il Santelia lo è. Nel dettaglio, cosa sarebbe il Policlinico Diffuso? Sarebbero dei reparti specialistici tra Enna, Caltanissette e Agrigento e poi le cliniche per far frequentare gli studenti, con la possibilità appunto per gli studenti di medicina di frequentare i reparti. Ma i beni informati dicono che Caltanissette ha già tutte le specializzazioni per poter essere di per sé Policlinico, le iper-specialistiche come chirurgia vascolare e neurochirurgia e impianto organica anche chirurgia toracica. Quindi ci si chiede perché nell'ottica del Policlinico Diffuso cedere reparti ad altre strutture? Forse perché alla fine della fiera, cedendo, si depotenzierebbe il Santeria a favore di altri ospedali che così diventerebbero di secondo livello? Sono tutte domande aperte alle quali solo la politica e il tempo daranno le risposte.